Una sconfitta nell'ultimo impegno di Preseason per l'Inter qui allo stadio adriatico Cornacchia contro il Villareal. Finisce 4-2 per gli spagnoli, ma bisogna dire che c'è stata una cornice di pubblico straordinaria qui a Pescara. Tutti i tifosi abruzzesi, ma anche provenienti dalle regioni limitrofe, hanno accolto i loro beniamini in questa calda serata qui a Pescara. Sul piano tecnico un mezzo passo indietro per gli uomini di Simone Inzaghi, apparsi pesanti sulle gambe non ancora reattivi all'appunto giusto. Questo probabilmente c'è l'attesa per l'esordio in campionato a Lecce e in qualche modo i nerazzurri si sono voluti preservare. Più squarra decisamente il Villareal, semifinalista di Champions, che in qualche modo ha fatto vedere il suo pedigree. I gol per l'Inter sono stati realizzati da Romelu Lukaku e da Danilo D'Ambrosio. Ed ora sulla splendida accoglienza qui del pubblico abruzzese e non solo, ascoltiamo la battuta di Stefan De Vrai. Pubblico sempre straordinario ovunque andiate. Sì, per noi è molto bello, siamo contentissimi che i nostri tifosi sono sempre presenti, si fanno sentire e noi siamo molto felici.